Padre Vincenzo Sirignano della parrocchia Santa Maria della Speranza. Allora quest'anno un'ennesima festa della Madonna della Speranza, padrone di Battipaglia, senza i riti civili, ma soprattutto quelli religiosi che sono fondamentali e più importanti. Ancora quest'anno, ancora per... io dico ancora per una volta sperando che sia l'ultima, e non sono permessi più che i riti civili le manifestazioni religiose all'esterno della Chiesa. Vale a dire non c'è la processione, non ci sono gli aspetti ludici, perché poi una festa padronale è il momento dove la cittadinanza si esprime e si esprime sotto ogni punto di vista. E' chiamata ad esprimersi dal punto di vista religioso, dando appunto il giusto tributo, onore, alla Madonna della Speranza a cui Battipaglia è molto legata. E tutto questo ha un risvolto anche civile, le due cose camminano insieme, in quanto, ecco, il popolo si ritrova, fa festa, fa festa insieme, è un momento di ritrovo dove un po' tutta la cittadinanza, in genere in tutti i nostri paesi, poi qui a sud è anche abbastanza sentito, si ritrovano per dare coesione, per dare consistenza a quella che è la comunità, che in genere ogni comunità nasce sempre intorno al culto di un santo, di un luogo religioso verso cui, ecco, nascono poi gli agglomerati, così un po' avviene nella storia dei vari paesi. Quindi quest'anno ancora una volta sottolineeremo l'aspetto tipicamente religioso. Questo per quale ragione? Perché i Vescovi hanno ritenuto opportuno, data la situazione pandemica che ancora non è stata dichiarata risolta, hanno ritenuto opportuno, loro conoscono poi ragioni ancora più alte di noi, di chiedere a tutte le parrocchie, almeno fino al prossimo 31 dicembre 2021, di evitare le manifestazioni esterne dove lì si potrebbero creare degli assembramenti a volte incontrollati. Ecco, Don Vincenzo, questa festa dopo il periodo di Covid, ma che cosa ha cambiato? La soglia della povertà è diminuita o è aumentata? Beh, da quello che si sente un po' dire, a livello anche nazionale, voglio dire non solo qui battipagliese, sicuramente questo momento di pandemia ha creato disagio, dico non solo a livello economico, ma ad ogni livello. ci sono tante persone, anche io, a volte esauste, perché la persona fondamentalmente è fatta per relazionarsi, la persona cresce attraverso la relazione e la pandemia attraverso il distanziamento, attraverso tutte le misure che ci sono state suggerite, ovviamente ha messo un po' così in quarantena la relazione, come si suol dire, come è giusto che sia stato, però è anche vero che a lungo andare questo crea disagio. E poi, dall'altra parte, oltre alla povertà proprio esistenziale, umana, sicuramente c'è anche quella economica, considerando che tanti settori del lavoro, dell'economia, insomma, non sono potuti partire o comunque non decollano così come avrebbero dovuto fare in una situazione normale. Un breve messaggio ai fedeli e alla città, per concludere. Un messaggio che do ai fedeli e alla città è questo, di non lasciarsi prima di tutto prendere dallo scoraggiamento. So anche di cittadini che hanno malgradito, insomma, il fatto che ancora una volta non ci potesse essere una processione, una manifestazione esterna, seppur nella sobrietà e quant'altro. È vero, dà fastidio. D'altra parte sono del sud anch'io, sono napoletano, quindi capisco bene qual è la nostra tradizione e non poterla esternare diventa antipatico, questo intubbiamente. Però allo stesso tempo io dico una cosa, come cristiani credo che è un'opportunità ulteriore quello che stiamo vivendo. Anche il dover sacrificare questi aspetti è un forte gesto di carità, perché noi non è che ci è stato chiesto di sacrificare perché insomma devono essere sacrificati, proprio per rispetto alla vita umana, rispetto alla persona e credo che questo per quanto costi è un grosso gesto di carità. Allo stesso tempo, proprio perché ci sono queste forme di disagio di cui abbiamo accennato anche prima, quale occasione migliore come cristiani in questo momento? Quello di imitare veramente la fede della Vergine Maria nella sua maternità. Farsi veramente madre e padre verso chiunque noi incontriamo sul nostro cammino. È come quando un genitore esercitando la sua paternità e la sua maternità, ecco, consola il figlio lì dove va consolato, lo sostiene lì dove gioisce, lo accarezza dove va accarezzato, eccetera, eccetera. E quindi quale occasione migliore anche da parte nostra? Vivere questa maternità mariana verso chiunque di modo che, ecco, grazie al Vangelo, grazie al comandamento dell'amore e della carità, tutti possano ritrovare un pochettino il sostegno per rilanciarsi in avanti e guardare soprattutto con speranza il futuro.